Un debole minimo depressionario sul Golfo Ligure attiva un flusso di correnti di liveccio anche sulle nostre regioni. Tra sabato e domenica è atteso il transito di un sistema perturbato più organizzato. In Toscana, venerdì 31 agosto, nuvolosità variabile, in mattinata possibili locali rovesci sull'estremo nord-ovest. Nel pomeriggio nuvolosità più consistente sulle zone interne centro-settentrionali, ove non sono escluse precipitazioni a carattere sparso e isolato, più probabili in appennino. Venti deboli meridionali con rinforzi sulla costa, mari mossi tendenti a molto mossi dal pomeriggio ai settori settentrionali. Temperature stazionarie. Sul territorio provinciale da velato al nuvoloso, con locali deboli piogge in mattinata sui rilievi, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 15, massima 27 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 11, massima 26. A Via Regge sul litorale, minima 18, massima 25 gradi. Sabato deciso peggioramento, con piogge localmente anche di forte intensità.